presenti cosa ti stavo dicendo di questi cassonetti nuovi ultima generazione che riesce a vedere tutto quello che c'è dentro e li hanno anche ingranditi guarda qua guarda quanto sono grandi lo vedi trasparenti riesce a vedere cosa c'è dentro guarda che grandi che sono questi cassonetti nuovi sono micidiali fiammanti così se magari devi andare a buttare qualcosa la sai benissimo che è già pieno vede l'altra parte ti risparmia anche la cammina figa come cosa e li stanno collocando proprio ovunque siamo nel 3000 ragazzi cioè cassonetti trasparenti ne abbiamo pieni svesa lo vedi che è trasparente vedi che sono più grandi del solito sono più lunghi sono più capienti antichi tutti colorati voi pensate davvero siete antichi amici miei siete vecchi avete visto quelli trasparenti altro che voi identità viagghi ovunque ovunque ovunque